accade nel feltrino ma interessa di fatto la viabilità la grande viabilità che quindi riguarda riguarda un po tutti non solo i feltrini a pont che sarebbe nei pressi di busche sostanzialmente vicino alla rotatoria di busche si lavora in vista della chiusura della strada perché lì c'è un cavalca ferrovia che era già stato chiuso in previsione della demolizione tempo fa quando si lavorava anche a una struttura analoga in territorio di santa giustina poi con questa doppia interruzione si è andati avanti con i lavori di formegane e qui invece il traffico è stato era stato ripristinato in attesa di fare i lavori più avanti il nodo di santa giustina formegane è stato risolto e adesso si riparte con i lavori sul cavalca ferrovia di pont sarà una cosa un po delicata perché bisogna abbattere e ricostruire la struttura che sorregge la strada sopra la ferrovia e questa struttura questo abbattimento comporta l'utilizzo di viabilità secondaria che però non è così facile realizzare perché in provincia di belluno come sempre non è che abbiamo molte alternative alla strada principale allora il titolo poi qualcosa dell'articolo di roberto curto sto leggendo dal corriere delle alpi bretella più larga perché perché l'altra volta era stata creata una bretella che doveva così risolvere il problema bypassare il problema si è visto annas si è reso conto che l'aveva fatta troppo stretta la bretella quindi la stanno preparando un po più larga ma sarà riservata solo per auto e bus gli altri il resto del traffico invece dovrà fare un giro ben più lungo a pont dice il titolo si lavora in vista della chiusura una volta demolito il cavalca ferrovia il traffico pesante dovrà utilizzare la deviazione che sfrutta la strada provinciale 1 bis e la strada regionale feltrina bretella di quindi per i camion sarà sarà un bel giro insomma per raggiungere per andare da busche a feltre bisognerà fare un giro molto lungo passando per la feltrina e per la sinistra piave bretella di ponte più ampia ma ci passeranno solo gli autobus per i camion e i tir niente da fare dice roberto curto resterà la deviazione lungo la strada provinciale 1 bis madonna del piave fino al ponte del fante che poi consente di risalire lungo la feltrina vedere ruspe e operai che stanno lavorando all'allargamento della bretella già utilizzata l'anno scorso durante i lavori che avevano reso necessario chiudere il cavalca ferrovia aveva acceso la speranza anche tra i trasportatori cioè dicevano guarda stanno allargando la bretella vuol dire che vogliono tenere i camion sulla strada che tra gli utenti della strada erano quelli ad aver subito il maggiore disagio insieme a chi utilizza i mezzi pubblici per spostarsi in effetti questi ultimi cioè gli utenti dei mezzi pubblici ovvero gli autobus i pullman di linea di turistici avranno la possibilità di transitare sulla bretella rinnovata e allargata ma non sarà comunque possibile farci passare tutto il traffico compreso quello pesante anas dice curto nell'articolo si è resa conto che la volta scorsa come dicevo prima la bretella ha svolto a pieno la propria funzione rallentando il traffico ma consentendo comunque agli utenti di transitare regolarmente limitando i disagi la grossa pecca era data dai ritardi accumulati dagli autobus pubblici costretti ad allungare il giro di una trentina di chilometri alla stregua di tire camion per il trasporto metro c trentina di chilometri così è stato deciso di attuare un sostanziale allargamento della bretella che consentirà ai bus di accedere alla deviazione che sfrutta la vecchia strada limitando i disagi anche per gli stessi utenti di trenitalia che da mesi stavano utilizzando i bus sostitutivi stanno utilizzando i bus sostitutivi anche sulla tratta per belluno meno male viene a dire insomma vi leggo l'ultimo paragrafo poi lascio a voi l'acquisto del corriere delle alpi la lettura dell'intero articolo nel frattempo dice curto sempre su questo giornale come indicato da treni belluno punto it sembrano quasi completati i lavori le due gallerie di san zan riadattate in altezza per ospitare l'impianto di elettrificazione della linea ferroviaria che scende verso monte belluna e con una protezione adatta in caso di frane di materiale che dovesse scendere dal versante della montagna in quel tratto particolarmente sensibile in caso di maltempo questo significa che su queste tratte ricordiamoci viene portato avanti non sempre di pari passo ma più o meno di pari passo il discorso dell'elettrificazione della linea ricordiamo che gli utenti del treno sono molto penalizzati perché in questi anni è stato un continuo trasferersi tra rotaia e bus nei luoghi nelle tratte chiuse in questo momento bisogna prendere l'autobus per andare in direzione di Padova con molto disagio rispetto al treno ovviamente ma contemporaneamente appunto oltre all'elettrificazione vengono risolti questi problemi di questo paio di cavalca ferrovia che avevano assolutamente bisogno di essere sistemati quindi questo va in porto bene e ne siamo contenti allora venendo la prima pagina del corriere delle alpi vi faccio vedere velocemente che cosa c'è in prima la procura contesta il salva olimpiadi partiamo di una iniziativa che parte dai pm di milano quel decreto blocca le inchieste sui giochi invernali scontro sulla decisione del governo di ribadire la natura privata della fondazione milano cortina e non sono cose a poco queste la foto di prima pagina è dedicata proprio al cavalcavia tra belluno e feltre di cui abbiamo parlato fino adesso nuovo cavalcavia tra belluno e feltre partiti i lavori a pont scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti in arrivo mesi di disagi per il traffico lascio stare il corriere delle alpi perché voglio farvi vedere sul gazzettino andiamo subito alla prima pagina del gazzettino nazionale una notizia importante cancellato è il cosiddetto disegno di legge nordio dal nome del ministro cancellato l'abuso d'ufficio la riforma nordio è legge basta paura della firma anche i vi e azione hanno votato a favore mentre al voto si è dimostrato contrario il pd voi sapete questa cosa riguarda i funzionari pubblici quindi non il privato il famoso responsabile dell'ufficio che deve mettere la firma ecco si aveva si dice il si parla di paura della firma perché perché quando un funzionario pubblico firma un atto deve stare molto attento che quella sua firma non vada in qualche modo a produrre un vantaggio economico per sé o per i propri parenti oppure uno svantaggio in qualche modo configurato per per terzi ok cioè la la firma deve essere molto cauti nella firma proprio per questo ragione non ci può essere né un vantaggio per se ne uno svantaggio per gli altri quando un funzionario pubblico adesso io l'ho detta sommariamente questo i reati che erano fino a tre anni di reclusione mi pare questo reato sparisce sparisce l'abuso d'ufficio per via del per la volontà del del ministro nordio noi lasciamo qui questa notizia in prima pagina sul corriere del gazzettino nazionale andiamo invece a vedere la prima pagina del gazzettino di di belluro diciamo che oggi giornale sembra non avere molte notizie da mettere in evidenza e allora ne approfitta per fare un approfondimento che però è buono e sarebbe da leggere da meditare così si rischia la vita in montagna e tra virgolette nel senso che l'articolo curato da vecellio la pagina 2 ragiona su come sono avvenuti gli incidenti peggiori di questa stagione in montagna come mai si è arrivati alla morte degli escursionisti quattro vittime in pochi giorni in pochi giorni dice il sommario l'ultima lo scalatore belga sulla ferrata lipella che era slegato in ferrata precipitato davanti alla compagna il soccorso alpino bisogna essere sempre assicurati assicurati vuol dire attaccati cioè muoversi con il moschettone doppio dice attrezzati e preparati fisicamente moschettone doppio cosa vuol dire vuol dire che bisogna avere i due moschettoni che sono legati alla nostra vita alla cintola insomma bisogna che tutti e due siano attaccati al cavo della ferrata quando si supera il fittone si stacca un moschetone lo si sposta di là lo si aggancia e poi si stacca il secondo e lo si aggancia sono cose che bisogna prendersi la briga di fare l'alpinista 42 anni precipitato martedì mentre affrontava un tratto giudicato non particolarmente impegnativo della ferrata lipella ed è qui il punto non sembrando particolarmente impegnativo l'uomo stava percorrendo sganciato no perché diceva beh questo tratto non sto lì a fare l'attacca stacca sulla tofana di roses era particolarmente allenato quell'uomo preparato a scenari ben più complessi sarebbe stata una leggerezza quella di non assicurarsi con i moschettoni a determinare la sua tragica caduta un caso isolato spiegano il soccorso alpino e le guide alpine giudicando che quasi tutti gli alpinisti oggi tendono a usare bene i moschettoni le disattenzioni sono molte altre e i soccorsi a decine in tutta la provincia lo dimostra noi abbiamo detto mille volte che spesso la gente va in montagna senza adeguata attrezzatura con le scarpe della ginastica invece che con una suola adatta e senza anche una preparazione fisica una conoscenza dei percorsi senza guardare il meteo ecco a volte le disattenzioni sono molto più terra terra di questa insomma però attenzione perché può essere fatale telefonate e social un anno al medico che perseguito la ex si tratta di un medico di di agordo che lavorava ad agordo che lavora ad agordo il professionista dovrà seguire un percorso riabilitativo per i reati di violenza di genere siamo in prima pagina sul gazzettino di belluno per chi volesse saperne di più belluno dolomiti bus ieri con tempestiva replica alle notizie che i commercianti non dicono di avere un calo del 30 per cento dei clienti in centro e loro dicono che è colpa degli anziani che vengono a mancare perché non c'è più l'autobus di prima insomma non hanno imparato trillo e non vengono più in centro fa spesa però trillo dolomiti bus subito cerca di smentire e mostra numeri dicono che trillo raddoppia il numero di passeggeri rispetto al servizio tradizionale ieri peraltro vi dico che ho visto il comunicato ci avevo essenzialmente messo mano quando si parla di numeri devo raccomandare ai colleghi comunicatori dolomiti bus bisogna che i paragoni siano fatti un po un po meglio insomma bisogna che se facciamo confronti eccetera i dati siano incontrovertibili insomma ecco all'ambioi è partito il mega cantiere da 5 milioni di euro previsti dal pnr per sistemare l'area del chiosco la spiaggetta giù in fondo un'area camper un sottopasso stradale tanta roba eppure rischiai fermarsi tutto perché c'è un ricorso al tar di un proprietario di una seconda casa che non vuole immaginare di vedere davanti a casa propria i camper sosteggiati nell'area camper e quindi ha fatto ricorso non vuole vedere la futura area camper nei pressi di lambioi dalla finestra della sua seconda casa per questo ha fatto ricorso al tar contro l'opera pubblica che sta procedendo a lambioi il titolo è appunto area camper davanti casa al tar contro il comune pieve di cadore ci sono proteste perché riferisce il giornale riferisce giuditta polzonello la movida è insopportabile nelle le notti in centro a pieve sono insonni 5 esposti molto ben documentati sul problema sono stati inviati negli ultimi anni al comune che ha competenze in materia per i rumori notturni che impediscono il meritato riposo a molte famiglie il tormentone movida si consuma anche a pieve di cadore in pieno centro storico e non solo d'estate quando le finestre aperte amplificano ma un po tutto l'anno volevo farvi vedere pagina 2 appunto l'approfondimento che copre tutta la pagina sul sui rischi in montagna quando un attimo senza moschettoni si paga con la vita e poi c'è il titolo in basso giorni di fuoco per l'elisoccorso 40 per cento di missioni in più del 2023 veramente una roba pazzesca ecco questa foto esemplifica quello che vi dicevo prima qui c'è una persona inferrata sta agganciando il moschettone sul cavo al di là del fittone ecco in questa situazione bisogna che il secondo moschettone sia agganciato al di là del fittone quando si assicura questo cioè si è sicuri che attaccato al cavo allora si stacca l'altro e si passa il fittone in modo che i due fittoni siano sempre i due moschettoni siano comunque uno almeno uno dei due si è sempre attaccato al cavo ecco questo è molto importante basilare insomma però come vi dicevo ci sono cose ancora più semplici da osservare tipo avere le scarpe giuste avere abbigliamento giusto tipo ancora più basilare guardare le previsioni ormai le previsioni del tempo sono molto precise è giusto tenerne conto allora finiamo così la rassegna stampa di oggi che è giovedì 11 luglio come sempre condotta da noi giornalisti dell'amico del popolo continuate a seguirci su radio piave in blu su www.amicodelpopolo.it un abbraccio a tutti ciao da Luigi Guglielmo